Giare e il suo comprensorio nella morsa della neve. Sono molteplici gli interventi operati da carabinieri e vigili del fuoco nell'area ionico e tenenze evito le difficoltà legate alla straordinaria nevicata che ha trasformato le strade in lastre di ghiaccio. Un tratto dell'autostrada 18 tra Ciliale e Giare è stato chiuso per ragioni di sicurezza e per svariate ore. La causa è dalle gare all'arribaltamento di un tir nella zona di Ciliale. Ha ferito il guidatore che è stato poi trasportato al Canizzaro di Catania. Si tratta di un vittoriese di 62 anni, residente a Comiso, entrato alle 4.30 di questa mattina in codice rosso al Trauma Center del Canizzaro di Catania. L'uomo ha riportato un politrauma con fratture cervicali. Stamane numerose auto sono rimaste bloccate poiché risultava difficile percorrere l'asse autostradale coperto dalla neve mista a ghiaccio. Notevole difficoltà le hanno riscontrate anche i mezzi di soccorso, in particolare le ambulanze del 118 dirette al nosocomio di Acireale. Da mezzogiorno di questa mattina in poi è stata poi riaperta la carreggiata in direzione di Catania della tratta Giarre-Acireale. Resta ancora chiusa invece quella in direzione di Messina. L'uscita obbligatoria al casello di Acireale rientra in autostrada al casello di Giarre. Viabilità invece regolare nella Siracusa Gela. Analogo il copione sulla statale 114 all'ingresso sud di Giarre a Salle Unardello, chiusa al traffico veicolare. Difficoltà si registra soprattutto nei paesi pedemontani di Santa Menolina, Zafferana, Milo e Sant'Alfio. I carabini ieri sera sono intervenuti anche in via Salice e nella zona di via Damasco a Macchia di Giarre. Mentre sono pervenute diverse richieste di soccorso lunga la strada che collega la frazione giarese di San Giovanni Montebello con Sant'Alfio con diverse auto coinvolte in un tamponamento multiplo per la presenza del ghiaccio sul manto stradale. A seguito della eccezionale nevigata che ha interessato il territorio giarese nella serata di ieri e anche in prima mattinata di oggi, attraverso una nota del comune si informa che il comando della polizia locale ha effettuato stamane un sopralluogo per verificare la percorribilità delle strade giarresi. Allo Stato si legge nella nota del comune di Giarre la circolazione risulta regolare su tutto il territorio compresa la statale 114. Permangono invece le difficoltà nella frazione di Macchia nella frazione di San Giovanni Montebello dove è ancora necessario l'uso delle catene da neve o relativi pneumatici adeguati. Tenuto conto del perdurare delle attuali condizioni climatiche si legge ancora nella nota si invita ad usare la massima prudenza e uscire soltanto in caso di necessità. Grazie a tutti.